Dagli ultimi spoiler si evince che Mauro riuscirà a salvare la Dark Lady dalla morte, mentre noterà che il ventre di Cayetana non presenta la cicatrice di un'operazione di appendicite subita in tenera età. Come anticipato, l'esotero cercherà di depistare le indagini imputando la mancanza della cicatrice ad uno sbaglio di cartella clinica. Il commissario non si accontenterà della versione fornita da Cayetana, tanto d'arcarsi dal medico che aveva praticato tanti anni fa la banale operazione, mentre scoprirà l'esistenza di un'altra bambina accanto a lei durante la digenza in ospedale. A questo punto comincerà ad indagare sul passato della donna, tanto da sospettare che stia mentendo sulla sua vera identità, sebbene tutti i parenti siano morti nell'incendio dalla casa Ruiz Sotero. Dopodiché San Emeterio deciderà di avvalersi della testimonianza di Fabiana, sebbene in vano. Inoltre la domestica confiderà a Mauro, che Herman e Manuela sono effettivamente partiti per l'isola paradisiaca, facendo così allontanare da lei i sospetti. Possiamo anticipare che il commissario scoprirà che Cayetana Sotero, al tempo dell'incendio, stava giocando con la piccola Teresa Sierra, che una volta arrivata da Casias 38, svelerà una rivelazione scioccante, cosa?